Buongiorno a tutti, allora come promesso oggi parliamo di sci, poi naturalmente nella postilla finale parlerò anche di Juventus Genova che si gioca domani sera. Veniamo alle due gare di venerdì, quindi c'era una discesa libera femminile a Cortina e c'era un Super G a Kitzbühel, quindi partiamo dalla discesa libera femminile che ahimè ha visto subito la nostra Brignone uscire e saltare una porta dopo 12 secondi, ma in compenso abbiamo la bella notizia della nostra Sofia Goggia che ha messo dietro le due americane, perché praticamente la Goggia ha vinto la gara, la Von è arrivata a seconda a 47 centesimi, quindi grandissima Sofia, terza la Schifrin a 84 centesimi, quarta la Lara Gut e quinta la Smidoffer. Simpaticissima la discesa di Giulia Mancuso che era l'ultima gara che ha fatto, ha praticamente fatto passarella, è terminata oltre 10 secondi dalla prima, ma praticamente si è messo davanti la pettorina col 31, l'ha lanciata, si è vestita da Wonder Woman, è scesa giù col mantellino rosso vestita appunto da Wonder Woman, ha salutato tutti, ha abbracciato tutti, l'hanno aspettata con lo champagne e l'hanno spruzzata addosso, felicissima, contentissima, era la sua ultima gara, ha voluto fare come dicevo l'altro giorno quando parlavo delle più belle sciatrici, la Giulia Mancuso è di una simpatia incredibile, probabilmente al Circo Bianco mancherà, sia perché è simpatica ma soprattutto perché comunque era una bravissima sciatrice, ahimè prima o poi capita a tutti di appendere lo sci al muro e quindi è toccato anche a lei, adesso vedremo cosa farà in America se magari vorrà insegnare eccetera, avere un insegnante come la Mancuso penso che sia il massimo della vita, comunque veniamo invece alle altre italiane, come dicevo la Brignone è uscita, la Offer purtroppo è uscita, le altre si sono più o meno difese, brava Codino Snaff come la chiamo sempre, Codino Rosso, decima, quindi è entrata nelle 10 quindi complimenti a lei, quattordicesima la Verena Stufer che ha migliorato il pessimo, pessimo, è arrivata trentesima, il suo punticino l'aveva preso nell'ultima gara, quindi quattordicesima è comunque un buon risultato, diciassettesima la Fanchini che lotta sempre e brava anche la De Lago che entra nelle 30 venticinquesima. Bene, detto della discesa libera femminile a Cortina, veniamo al Super G di Kizmuel, Super G di Kizmuel che inizialmente vedeva Jasrud già bello felice e contento al primo posto, poi era sceso il suo master Svindal, il suo collega connazionale norvegese e gli ha dato mezzo secondo, quindi la gara ha visto la vittoria di Svindal davanti a Jasrud, poi Reichelt era bello felice al terzo posto, è sceso il suo connazionale Mattias Maier e per un centesimo di secondo gli ha fregato il terzo posto, quindi Mattias Maier terzo, Reichelt quarto e Theo quinto. Gli italiani il settimo Phil che, vabbè, si è difeso, è nei dieci, undicesimo ahimè Nerofer, male Paris che è arrivato sedicesimo. Comunque bellissima gara, combattuta fino alla fine, certo Svindal e Svindal c'è poco da fare, una volta che è sceso lui poi tutti gli altri hanno fatto praticamente da comparse perché arrivavano tutti dopo il quinto posto, quindi a parte Reichelt appunto che, a parte Maier che appunto gli ha andato a portare via il terzo posto a Reichelt, ma per il resto una gara abbastanza scontata una volta che sono scesi i primi 15. Bene, detto questo di... di sci, veniamo al calcio. Juventus-Genoa di domani, che naturalmente secondo me è un 1-1 fisso, anche se ci sono un po' di Juventini preoccupati perché temono il metodo dell'allenatore del Genoa che gli mette praticamente il pullman davanti e adesso vediamo se riuscite a segnare, ma credo che prima o poi il gollettino salterà fuori, quindi Juventus-Genoa io direi che è un 1-1 fisso. Quindi detto dello sci, detto del calcio, vi saluto, vado a vedermi Atalanta-Napoli cosa succede, visto che più o meno sono le 12 e mezza, infatti mi avvisa la mia sveglietta che sono le 12 e 30 e vi aspetto naturalmente domani per parlare appunto delle partite che si sono svolte oggi, già adesso praticamente. Ciao!